Oggi andremo ad integrare XaGTP all'interno di Excel e lo faremo con il T-Script, che è il linguaggio che è stato integrato nelle nuove versioni di Excel. Che cosa ci dà di più rispetto al Visual Basic? Il Visual Basic è possibile eseguirlo solo sull'applicazione desktop, invece il T-Script è disponibile sia sulla versione desktop ma anche sulla versione online. Cosa significa? Che se noi prendiamo i nostri Excel e li carichiamo su OneDrive, SharePoint oppure su Microsoft Teams e poi apriamo l'Excel tramite browser o tramite applicazione esterna, il T-Script sarà ugualmente eseguibile, quindi nel nostro caso potremo utilizzare XaGTP sia lato desktop ma anche lato online. Ora andremo a porre alcune domande a XaGTP, vi darò dei suggerimenti di come potreste sfruttare l'intelligenza artificiale all'interno del vostro Excel, in attesa poi che arrivi effettivamente alla soluzione finale di Microsoft con l'integrazione vera e propria su Excel. Successivamente vedremo come installare questo script ed eseguirlo nelle vostre applicazioni. Vi spiegherò proprio come accedere al T-Script, metterlo dentro, cambiare le variabili e tutte le configurazioni anche con OpenAI eccetera per far funzionare effettivamente XaGTP. Andiamo ora a visionare degli esempi di suggerimenti di come potreste giocare con l'intelligenza artificiale in questo momento all'interno di Excel. Allora andiamo sulla cella verde e inseriamo la nostra domanda. In questo caso che cosa vado a dirgli a XaGTP? Vi chiedo, mi aiuti a capire questa formula a livello logico, cosa fa e come funziona. Quindi lui ci dà una mano a interpretare la formula tecnica che sta sotto una cella, che quando sono lunghe diventano difficili andare a comprendere. Quindi in questo caso ci può proprio aiutare a comprendere come funzionano le formule. Un'altra cosa che potremmo chiedergli è di andare a scriverci una routine in Visual Basic. Questa è molto utile perché non è sempre molto preciso, però ci restituisce, ci aiuta a creare i nostri script in Visual Basic. Vedete che qui gli ho chiesto di darmi una funzione che mi valorizzi una variabile con il valore posto su una cella di un altro foglio. Ecco che lui mi ha scritto la funzione. Un'ultima cosa che potremmo dirgli è di scriverci una tabella di dati. Ad esempio io che registro video, a volte ho bisogno di crearmi dei sedi dati per utilizzarli all'interno del mio video. Quindi qua gli sto chiedendo, crearmi una tabella di dati composta a 6 colonne con massimo 10 righe. Devo utilizzarla come finta tabella dei fatti per fare un esercizio in DAX. Adesso vedete che la risposta è un po' più lunga, però vedete che poi ci dà effettivamente il risultato. Qui c'è il delimitatore, vedete che mette una barra dritta. Per andare a togliere questa cosa qui noi possiamo andare a fare dati. Andiamo su testo in colonne. A questo punto noi gli diciamo delimitato. Al posto della tabulazione andiamo su altro, gli mettiamo la barra dritta che è shift, il tastino che è sopra al tab. E vedete che lui poi va effettivamente a crearci la tabella e ci scompone l'informazione che c'ha GTP, c'ha interrogato, c'ha restituito riga per riga. Ok, questi sono semplici esempi. Potete giocare un attimino con intelligenza artificiale come meglio credete. Allora, andiamo ad installare lo scritto all'interno di Excel. Da dove sono partito innanzitutto? Sono andato sulla libreria di GitHub. Nello specifico questa base di partenza è stata realizzata da Leila. Quindi sono andato su questa pagina di GitHub che trovate in descrizione, ho premuto su code e poi ho premuto su download. Così ho scaricato il progetto. A questo punto che cosa ho fatto? Sono andato appunto a modificarlo in modo da renderlo un po' più agibile e più integrabile in base alle vostre necessità. Infatti ho messo tutte queste variabili dove li dico sul foglio nel quale dovrà lavorare, su che cella viene posta la domanda, la cella che ha come risposta. E se ho l'intervallo di tabelle gli dico parti sempre dalla cella B4 perché magari se ho risposta in tabella posso metterle su un altro punto. E sotto gli ho detto di cancellare l'area della risposta che va da B4 a B1000. Quindi andrà a sbrasare tutti i dati che sono qua sotto. Il numero di tokens invece è il numero di tokens in risposta che può dare l'intelligenza artificiale. 1024 dovrebbe essere più che sufficiente. Attenzione che poi qua su ci vuole anche l'APK. Questa qui non potete utilizzare la mia APK. Adesso è qui come dimostrativa. Però poi dovete mettere la vostra APK personale. Tra poco vedremo come andare ad ottenerla dal sito di OpenAI. Attenzione che potete andare a generarla in modo gratuito. Avete una base di 18€ che potete andare a spendere nei prossimi 3 mesi. Però diciamo che ogni chiamata non consuma tantissimo. A meno che non gli chiediate di avere in auto delle tabelle che riempiano tutto il foglio Excel. Allora magari lì la chiamata può impegnare anche diversi centesimi. Allora per installare prima di tutto il T-Script all'interno di Excel come facciamo? Dobbiamo andare nel menu Automate. E a questo punto alcuni di voi potrebbero dire io non ce l'ho questo menu. Questo menu in questo momento è disponibile solo per la versione Microsoft 365 Business. Però a tendere presumo che nelle prossime settimane uscirà anche per la versione Microsoft 365 Family e Personal. Invece per chi ha l'Office 2021 dubito uscirà in quella release. Probabilmente bisognerà aspettare la versione di Office 2022. Ad ogni modo appena verrà integrato nella vostra versione comparirà il menu in automatico. Non dovrete andare ad attivarlo manualmente. Cosa facciamo a questo punto se abbiamo il menu? Andiamo su Automate. Facciamo Nuovo Script. E a questo punto dobbiamo andare a inserire lo script. Io ho preparato questo file che è TS che sta per T-Script. Lo possiamo aprire col Block Notice oppure con Notepad++. E qui c'è tutto lo script. Che potete andare a scaricare questo file in descrizione al mio video. A questo punto facciamo un bel CTRL A così selezioniamo tutto il testo. Un bel CTRL C così copiamo negli appunti lo script. Andiamo nel nostro Excel e qui cancelliamo quello che lui ci ha predisposto. A questo punto faccio un CTRL V. Ecco che ho inserito appunto il mio script. Dobbiamo andare a salvarlo. Quindi facciamo un bel salva script e lui lo salva con T-Script 3. Se andiamo qui possiamo andare a rinominare il T-Script come vogliamo. Quindi test GPT ad esempio. A questo punto gli do l'invio. Salva T-Script. Questo script la cosa bella è che è poi salvato in cloud. Quindi lo possiamo utilizzare. Lo troviamo. Vedete che qui ci sono gli script che sono andato a creare. Adesso qui lo chiudo e andiamo a vedere quello che ho fatto. Vedete l'ho chiuso. Qui compare test GPT. E qui c'è quello che ho creato io in precedenza. Quindi poi qui posso semplicemente andare a fare modifica. Quando lo seleziono qua su faccio modifica e lo modifico come voglio. Qualsiasi file io vado ad aprire con la mia release di Office che ha l'Automate. Troviamo tutti questi script condivisi. Quindi non è una cosa che si salva dentro il file specifico. È proprio condiviso su tutti i progetti. Se andiamo e apriamo un foglio di lavoro nuovo nel cloud. E lì compare il menu Automate. Lì troveremo appunto lo script condiviso. Perché è salvato in cloud. È una libreria condivisa. Questa è una cosa bellissima del T-Script. A questo punto cosa facciamo? Dovremmo recuperare questa chiave. Come andiamo a recuperarla? Basterà andare nel sito di OpenAI. Quindi andiamo qua su. OpenAI.com Qui dobbiamo semplicemente andare su API. Facciamo il login. Sperando che funzioni perché a volte non funziona. Ci registriamo oppure accediamo ad esempio nel mio caso. Io accedo con l'account di Google. Che mi sono registrato con quello. Una volta logati nel sito basterà andare in alto a destra. Premere su View API Key. Qui basterà poi premere sul bottoncino Create New Secret Key. Per andare a generare una chiave da inserire all'interno del nostro Excel. Eccola qua. Premiamo sul bottoncino verde così la copierà negli appunti e diamo l'ok. Prima di andare a inserirla nell'Excel. Se andiamo sulla sinistra troviamo Usage. Se andiamo qui possiamo tenere d'occhio quanto abbiamo consumato con le chiamate API. Quindi vedete che in queste giornate io sono andato a effettuare effettivamente delle chiamate tramite l'Excel. E sotto adesso vedete che è un po' lentino perché poi il sito di OpenAI non è sempre molto veloce durante la settimana è un po' lentino. Ma se passiamo sopra l'istogramma vediamo effettivamente il costo di o in chiamata. Questo non è un costo che noi andremo a pagare perché stiamo utilizzando la versione free. Quindi dopo i tre mesi oppure al completamento dei 18 dollari l'APK non funzionerà più. Quindi dovremmo andare a upgradare a un abbonamento mensile o comunque pagare la chiamata che andiamo a fare con l'APK. Ok tornando sull'Excel andiamo qui prendiamo la chiave e la inseriamo qui. Una volta fatta questa cosa basterà fare salva script. Ok adesso lo script è effettivamente funzionante. Se noi adesso torniamo indietro con dettagli dello script. Infatizziamo che abbiamo appunto GPT on Excel e vogliamo andare a creare un pulsantino di questo tipo. In modo che non entro nello script e poi faccio esegui da qui ma premo semplicemente un bottoncino. Non si fa come con il Visual Basic che si fa su inserisci, si inserisce l'illustrazione e poi si connette la macro. È diverso. Bisogna andare sullo script quindi ipotizziamo che siamo così, chiudiamo tutto. Andiamo nel menu Outmet e premiamo sullo script che ci interessa. Una volta premuto sullo script andiamo sui tre puntini che vedete qui sulla destra. Premiamo in fondo su aggiungi pulsante. Cliccando su aggiungi pulsante lui andrà ad inserire un pulsante sul nostro foglio di lavoro. A questo punto noi possiamo anche ridimensionarlo e giocare col menu Home per andare a cambiare la dimensione del carattere. La macro sarà agganciata in automatico a questo pulsante quindi è proprio una procedura diversa dallo standard. Bene direi che anche con questa lezione è tutto. Se state di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete iscritti al canale. Se invece vorrete supportarmi in altro modo magari pensate a stuporare un abbonamento col tasto abbonati che è sotto al video così potrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale. Oppure se vorrete sostenermi in altro modo potreste magari pensare di guardare sempre in descrizione dove trovate molti link per supportarmi. Ad esempio se acquistate su Amazon passate per i miei link oppure se avete bisogno di una licenza software trovate il link a un sito sicuro dove andare ad acquistare le licenze. Sempre in descrizione trovate anche il merchandising con tutti i prodotti BI4U, lo slogan Business Intelligence per voi. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!